buona giornata amici da massimo foghetti oggi è venerdì 8 aprile 2022 eccoci pronti per la rassegna stampa del giorno su fano tv prenderemo in esame come sempre il resto del carlino e il corriere adriatico sulle pagine locali le pagine nazionali sono ancora piene di notizie che riguardano la guerra tra la russia e l'ucraina una guerra che sta ammietendo molte molte vittime ma c'è anche un altro nemico un'altra guerra che si sta combattendo che magari viene posta sotto piano ma è che è sempre emergente quella contro la pandemia ebbene il covid è sempre presente nel nostro territorio come in tutta europa probabilmente in tutto il mondo il problema è che sta ammietendo forse molte più vittime civili tra virgolette di quelle che sta ammietendo la guerra ucraina ucraina e russia e quindi è un nemico da sconfiggere una guerra che non si può sottovalutare ma che deve essere combattuta con ogni mezzo giorno per giorno e qui le vittime sono costanti in italia circa 150 140 vittime al giorno che poi in una settimana arrivano a un migliaio e cominciamo la nostra segna stampa con il santo del giorno vediamo che oggi si festeggia san dionigi da corinto è un vescovo un vescovo vissuto nel secondo secolo di lui comunque si sanno si sa poco ci sono poche notizie si conoscono però stralci delle sue lettere inviate alle chiese di atene di lacedemone di knosso di amastri nel ponto notizie che contengono dei particolari sulla religiosità di quelle comunità durante il pontificato di sotere è commemorato come martire san dionigi da corinto ma anche su questo non vi sono notizie certe dunque un santo che rimane un po così nebuloso il tempo invece è schiarito per quanto riguarda le nubi sul nostro territorio lo vediamo adesso con la grafica passiamo alle previsioni del tempo e vediamo il meteo un tempo asciutto con cieli sereni e leggermente offuscati da nubi alte in transito comunque l'aspetto particolare della giornata odierna è il vento il vento che espira abbastanza forte lo sentiamo anche come rumore quando apriamo le finestre è un vento che espira con una tensione particolarmente sostenuta espira da una direzione di sud ovest la temperatura comunque è gradevole sale e a 22 gradi come massima nel nostro territorio la minima è di 13 gradi quindi la primavera si fa sempre più sentire ed ora diamo un'occhiata al corriere adriatico sulla pagina di fano vediamo come l'apertura è dedicata è dedicata alla vediamo un attimo eccolo qua alla carnevalesca il titolo è non so se rinuncio a candidarmi ma finora nessuna idea proposta parla così l'attuale presidente dell'ente carnevalesca maria flora gian marioli in risposta un po al nuovo gruppo che si affaccia alla competizione elettorale prevista per il mese di settembre per il rinnovo del direttivo della carnevalesca sembrava che la presidente non si ripresentasse e alle elezioni ma però insomma sembra che ci stia ripensando e quindi deve ancora assumere una decisione non è vero ha dichiarato che ho deciso di non presentarmi alle prossime elezioni ci devo riflettere non ho alcuna remora nel dire che una delle incombenze più gravose è quella di porre la firma ai prelevamenti che si fanno in banca firma che deve essere garantita con i propri beni personali e questo lo deve fare sia l'attuale che il prossimo presidente dell'ente carnevalesca è come se maria flora gian marioli mettesse in guardia guardate che fare il presidente della carnevalesca non è uno scherzo anzi è un impegno gravoso ed è un impegno assolutamente gratuito come quello di tutti i consiglieri che fanno parte del direttivo non si prende un soldo lo si fa solo per amore della città e per amore del carnevale la presidente gian marioli sorpresa è un po seccata dall'uscita del nuovo gruppo di che se avevano delle proposte da fare potevano venire a collaborare in carnevalesca ha dichiarato insomma si tratta di vota e risposta e ne vedremo che cosa accadrà in prossimità delle elezioni altre notizie sulla pagina di fanno vediamo che si parla di cronaca per una vicenda che si è svolta al tribunale di pesaro vittima di abusi insultata per strada una trentenne aggredita verbalmente con minacce di uccidere addirittura il proprio cane l'avvocata che la difende dice chiederemo i danni aveva portato a giudizio per massaggi nella zona erogena un amico di famiglia che è stato assolto nel processo per insufficienza di prove era un esperto in massaggi chakra e i massaggi chakra prevedono massaggi palpeggiamenti un po in tutte le parti del corpo comprese le parti intime dove però sembra secondo le dichiarazioni di questa ragazza che lui indugiasse un pochino in queste parti intime però come avete visto il giudice ha considerato un'insufficienza di prove e quindi l'uomo è stato assolto e poi sul giornale si parla ancora di autovelox questi apparecchi che verranno sistemati nella statale adriatica sud nei pressi di torrette il ponte sasso e poi anche sulla flaminia a cucurano benvengano gli autovelox ma occorre la complanare e questo la vera soluzione che reclamano i residenti di questi lunghi rettilini che conducono nel sud del territorio del comune di Fano ebbene una complanare che dovrebbe unire Marotta alle opere compensative realizzate dalla società autostrade che terminano a Tombaccia e beh sì perché poi nelle mire degli autovelox finiscono di incorrere anche i residenti perché insomma superare i 50 è un attimo e quindi poi l'autovelox non perdona multa a tutti residenti o non residenti e quindi però per il momento insomma la soluzione viene ben accolta perché è un modo per impedire e ripetersi di tanti incidenti anche molto gravi che si sono verificati in quel territorio. A Fano oltre 1200 atleti per la corsa campestre è una delle iniziative sportive che si svolgono in questo weekend ce ne sono due di particolare importanza questa che è stata presentata ieri è un'iniziativa del XI a livello nazionale sono tantissimi circa 1200 gli atleti che arriveranno a Fano da nove regioni quindi anche ossigeno per quanto riguarda le strutture ricettive e qui il binomio turismo-sport costituisce ancora una molla per l'economia affanese e vediamo che ci sono due iniziative una domani all'aeroporto dove ci sarà la corsa campestre e una nella zona porto verso Marina dei Cesari dove si disputerà domenica prossima la staffetta delle regioni una iniziativa importante a cui poi viene associato anche il trail ciclo turistico che viene organizzato da Fano Corre che ha tre giornate oggi, domani e domenica oggi per quanto riguarda i circuiti dell'entroterra insomma che sono poi frazionati tra Fano, Urbino e Pesaro ancora sulla pagina affanese, no, passiamo a Terre Roveresche passiamo a Torre Roveresche per festeggiare il Mosaico il centro diurno di Orciano vent'anni di solidarietà sono queste le iniziative compiute da questa associazione e domani ci sarà anche il Vescovo Trasarti per festeggiare questa ricorrenza domani infatti è il giorno più atteso per il centro diurno il Mosaico di Montebello di Orciano nel comune di Terre Roveresche il ventesimo anno rappresenta un traguardo carico di significato in termini di solidarietà di inclusione, di progetti educativi eccellenti alle 11 interverrà il Vescovo con la celebrazione della parola a seguire poi il saluto delle attualità e la visita ai locali ristrutturati appunto dell'associazione a Mondolfo, a Mondolfo sui pedali dal Catria al mare pienone per le cicloturistiche le cicloturistiche per esempio il trail di cui parlavo poc'anzi arriverà anche a Mondolfo e quindi le cicloturistiche costituiscono veramente una delle iniziative specialmente in bassa stagione per la destagionalizzazione appunto delle presenze costituiscono una risorsa veramente importante oggi e domani la meravigliosa cornice di due cicloturistiche porteranno i tanti partecipanti alla scoperta degli aspetti più belli del nostro territorio e vediamo si parte con la prima edizione dell'Adriatic Green Trail un viaggio affascinante in bicicletta che toccherà appunto molti punti della provincia e poi è in programma anche la prima tappa del MTB Market Cup il circuito cicloturistico WISP che lega la passione per la bicicletta al turismo sostenibile vediamo anche un articolo che riguarda Senigallia dove si parla di una iniziativa presa da un imprenditore particolarmente illuminato si tratta di Antonio De Luca titolare del Sushi Corner che ha regalato ai propri dipendenti 200 euro ciascuno per pagare le bollette di casa ho sentito ha dichiarato che avevano difficoltà con i rincari ed è il mio modo per ringraziarli veramente un atto di solidarietà e di diciamo così lungimiranza gestionale della propria ditta di particolare importanza passiamo ora alla pagina regionale del Corriere Adriatico dove vediamo una novità che riguarda i vigili urbani la polizia locale vigili in prima linea è tempo di cambiare e poi però c'è il rebus delle pistole che cosa significa questo articolo? ebbene parla di una riforma strutturale della polizia locale per garantire la sicurezza e fronteggiare le forme di micro criminalità e di inciviltà che si registrano in molte località marchigiane spesso si reclama l'intervento dei vigili urbani a sostegno delle incombenze della polizia della polizia del commissariato dei carabinieri della guardia di finanza ovvero delle forze preposte in maniera più determinata alla difesa della sicurezza ebbene anche i vigili urbani possono fare qualcosa ed è una proposta di legge firmata dal consigliere regionale Fabrizio Cesetti del Partito Democratico ed è incardinata in commissioni affari istituzionali tradizionalmente è considerato un tema caro al centrodestra con Lega e Fratelli d'Italia che da tempo chiedono di dotare i vigili urbani del taser questa pistola particolare questa volta invece al centro-sinistra ad accendere i proiettori sulla sicurezza la questione armi è un po' delicata ed è stata volutamente omessa dal testo della legge è una proposta aperta che deve essere ancora definita comunque è auspicabile ha detto Cesetti che ci sia un contributo di confronto in merito a questo avviso a questa situazione e a mio avviso ha detto è necessario dotare il corpo di polizia locale dell'acquepaggiamento adeguato ma comunque non è una forzatura si lascia al libera discussione e qui vediamo anche un articolo che riguarda le scelte dei territori il primo comune dell'intera regione a fornire le armi sono stati fermo Porto Sant'Elpidio e Monte Urano l'uso della pistola è ormai una regola nell'area di Macerata è un solo sindaco ha dato il via libera in tutto il Piceno si tratta del sindaco di Monte Prandone a Fano i vigili hanno la pistola giriamo la pagina e vediamo la pagina di Pesaro dove si parla di alienazioni patrimoniali beni all'asta il comune ci riproverà ma prima deve ritoccare i prezzi spesso le alienazioni patrimoniali che vanno all'asta da parte degli enti locali non ottengono offerte vuoi perché magari manchi un po' di liquidità oppure perché i prezzi sono troppo alti e si attende che dopo due o tre gare bandi i prezzi calino ed è forse il caso anche di questa situazione è stato rivisto dal comune di Pesaro il piano delle alienazioni dopo gli immobili rimasti senza offerte per più lotti la base è stata ridotta sperando di invogliare appunto gli acquirenti e quali sono questi lotti vediamo che il comune pone all'incanto le case coloniche di Ginestreto gli ex poliambulatori Asur di Montecchio un immobile in via 11 febbraio l'ex scuola materna di via Salandra il fabbricato di via Madonna di Loreto e l'ex delegazione di Villa Fastigi a Pantano il comparto ci riprova con una doppia asta da 7 milioni nell'area suddivisa e nel commerciale residenziale rienta anche l'ex copredil ecco vediamo l'edificio fantasma in via Solferino a Pesaro ancora la maxi antenna di Soria d'esta polemiche anzi vibrate proteste i residenti non ne vogliono sapere non sono stati affatto coinvolti informati di questa decisione del comune e si sono posti in trincea siamo pronti ad una clax action hanno detto e gli ambientalisti chiedono un incontro con il comune e un'assemblea oltre a un centinaio di impianti sul territorio le richieste continuano e qui vediamo come continui l'agitazione in quelle di Soria per fermare il comune contro la localizzazione di questa antenna in quel posto insomma l'antenna non si deve fare secondo i residenti e poi si parla ancora dell'arretramento della ferrovia della ferrovia per quanto riguarda Pesaro in questo caso insorgono i tecnici del gruppo zero chi sono i tecnici del gruppo zero sono architetti urbanisti che fanno parte appunto di questa associazione i quali hanno stroncato il bypass ferroviario specialmente per quanto riguarda il tratto Gradara Pesaro impatto estremo e dispegno di risorse pubbliche hanno detto si comprendano Fano e Mondolfo secondo questi tecnici si tratta appunto di un percorso di 19 chilometri di cui 8 in viadotto e 11 di gallerie un progetto estremamente costoso e impattante hanno detto appunto questi professionisti per la sola riduzione di 5 minuti dei tempi di percorrenza della tratta Gradara Pesaro non vale la pena fare questo investimento un progetto di massima da cestinare con la massima urgenza e poi ancora i sindacati con la ferrovia in gioco il futuro del territorio no alle battaglie politiche sugli investimenti insomma per i sindacati quando si investe occorre ponderare bene bene e rinunciare o meno ai soldi che stanno per arrivare ancora cronaca sul Corriere Adriatico per quanto riguarda Pesaro vediamo che un trentenne diventa l'incubo di una ragazzina di 13 14 anni per braccarla postamenti e vandalismi una vera e propria fissazione di questo trentenne per questa ragazzina di 14 anni conosciuta al bar dove lavorava e quindi l'ha perseguitata insomma è diventata una vera e propria ossessione il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccioletto elettronico così che possa essere controllati che possano essere controllati tutti i suoi spostamenti evitando nuovi contatti con la vittima stangata autovelox a Cagli 300 sanzionati al giorno al giorno neanche noi ci aspettavamo certi numeri ha dichiarato lo stesso sindaco di Cagli Alessandri che si è mostra sorpreso per l'attività dell'impianto posto lungo la Flaminia una media di 300 multi al giorno con una sanzione minima di 53,60 euro moltiplicati per quasi due mesi di attività fa una bella cifra questi gli esorbitanti numeri registrati dal velox bidirezionale con supporto in infrarossi fatto installare dall'amministrazione comunale di Cagli sulla statale 3 Flaminia la superstrada in località Nocino lo scorso 16 febbraio è attivo 24 ore su 24 quindi occorre fare attenzione anche per quello che accadrà a Metauriglia e a Cucurano per quanto riguarda la Flaminia e la statale Adriatica Sud poi a Vallefoglia vediamo che si parla di Cantiano e della risorsa tra Chiaserna e Cantiano dell'economia locale ovvero l'allevamento dei cavalli si parla della fiera che torna dopo due anni il sindaco Piccini ha lanciato l'evento di Pesaro capitale della cultura 2024 l'appuntamento è il 30 aprile e il primo maggio a Chiaserna domenica l'anticipazione in Piazzale della Libertà insomma si parla anche di questa iniziativa e qui vediamo la presentazione con i cavalli di Chiaserna e poi a Urbino le celebrazioni federiciane quelle del Duca Federico sono aperte ovviamente a tutti e sotto i torricini arriva anche il Ministro presentazione con Gubbio alla Bite di Milano il prossimo 12 aprile in convegno ducale per Franceschini ed è importante perché in questa manifestazione in questo programma di eventi rientra anche il restauro delle parti interne della Chiesa di San Bernardino ovvero il Mausoleo dei Duchi con l'ammodernamento di impianti un nuovo allestimento è un racconto storico adeguato all'importanza della struttura tutto questo verrà realizzato entro il mese di giugno gli uffici si stanno occupando assieme all'Università di Pisa del rientro a breve dei resti delle salme studiate dalle sezioni di paleopatologia dell'Ateneo Toscano che fanno gli esami come hanno fatto poi per la mummia di Pandolfo III a Fano a questo punto vediamo la pagina vediamo la pagina del resto del Carlino la pagina di Fano è dedicato al turismo il turismo risorge a Pasqua ossigeno allo sport la guerra delle vacanze dal primo aprile hanno riaperto undici hotel la guerra non si ferma non ferma le prenotazioni prime telefonate anche per l'estate insomma qualche segnale di rinascita per quanto riguarda il settore si stanno avvertendo e soprattutto perché gli operatori si stanno molto molto facendo promozione e stanno facendo un modo un modo nuovo anche per cercare di attirare turisti e lo sport è uno di quelli che funziona sempre e meglio perché poi porta atleti porta accompagnatori porta tecnici e quindi due o tre giorni di arrivi si moltiplicano per quanto riguarda le presenze e costituiscono veramente una risorsa per il nostro turismo e poi su questo articolo di spalla si parla della maxicorsa campestre che spalanca le porte agli alberghi di cui abbiamo parlato il resto del Carlino continua a parlare dei problemi di Viale Dante Alighieri i residenti hanno inviato una diffida al comune tramite un avvocato si tratta dell'avvocato Secli la situazione è diventata indecente ha dichiarato quest'ultimo la sollecitazione è arrivato il momento di agire ci sono due componenti in questo caso abbiamo la Niucco Promo che ha bisogno di una viabilità adatta al transito dei propri automezzi sono moltissimi quelli che vanno che fanno un via vai tra la zona portuale e appunto le altre destinazioni e i residenti che hanno bisogno di parcheggi e di sicurezza per quanto riguarda i pedoni ebbene sembra che il comune abbia ipotizzato di eliminare 130 parcheggi ma non è chiaro su quale lato di Viale Dante Lighieri né in quale tratto anche se il più frequentato è quello tra Viale Colombo e Viale Battisti in realtà nessuna decisione ufficiale è stata ancora assunta anche se ieri mattina se ne è parlato in giunta e poi anche il resto del Carlino evidenzia la presa di posizione di Maria Flora Gian Marioli presidente dell'ente carnevalesca in risposta al formarsi del nuovo gruppo che si presenterà alle elezioni una dichiarazione dell'assessore al welfare Dimitri Tinti per quanto riguarda l'anciclabile sulla Fano Urbino ebbene l'assessore dice bisogna bisogna rilanciare la proposta della pista a fianco della linea anche se i tecnici della ferrovia ha detto che non è possibile i sindaci dicano no ai convogli in transito ha dichiarato lavori al centro disabile che compie vent'anni a terre roveresche si tratta del mosaico consolidata la struttura con 150.000 euro il mosaico a Montebello festeggia la propria attività e ci sarà anche il vescovo Trasarti abbiamo detto alle ore 11 sulla pagina di Urbino vediamo che il futuro della località Ducale può essere solo verde lo dicono appunto gli ambientalisti che hanno partecipato alla manifestazione di ieri per sollecitare scelte ambientali e sicurezza per chi cammina specie se più vulnerabile in modo che si possa avere un'eliminazione anche delle barriere architettoniche per le persone più fragili autovelox e parcheggi paghiamo gli errori della giunta minoranza all'attacco incassi esorbitanti per il comune ai danni dei cittadini e vediamo anche le pagine di Pesalo del resto del Carlino dove si parla soprattutto di un problema di carattere sanitario false vaccinazioni 11 indagati in provincia il tarifario 250 euro per avere il Green Pass inchiesta è partita da Bologna ed è stato arrestato un medico di Rimini nei guai anche un assistente pesarese ed una 45enne di Cagli che era la procacciatrice appunto dei clienti ci sono anche 11 pesaresi e 7 donne e 4 uomini tra i 27 finiti nell'inchiesta della procura di Rimini sul traffico di falsi Green Pass e finte somministrazioni di vaccini che ha portato all'arresto ai domiciliari in questo caso di un medico di base residente a Rimini ma con studia cattolica a San Giovanni in Marignano e poi altre sospensioni per quanto riguarda 7 sanitari tra gli indagati spicca un pesarese di 38 anni il quale incassava per ogni pratica 250 euro ed una 45enne di Cagli titolare di un'azienda agricola accusata di essere la procacciatrice di clienti Novax nella zona disposti a pagare appunto per avere il certificato spinte strattoni e calci a nostro figlio una prof delle medie finisce sotto accusa un'insegnante denunciata ai carabinieri e in procura dai genitori di un ragazzo violenza e atteggiamenti inaccettabili diverse famiglie dei ragazzi che frequentano questa classe si sono rivolte alle forze dell'ordine per raccontare quello che è accaduto e anche altri studenti insomma ora è bisogna indagare su quello che accadrà e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera come l'occhio la notizia su Fano TV bene questo è tutto a risentirci a risieme a risieme